Su questo ci tengo proprio tanto a farti capire che non è soltanto un'arte marziale basata sui calci e sui pugni, se lo fosse stata tanti di noi sarebbero andati a fare altro, perché oggi magari per ottenere delle competenze dal punto di vista strettamente fisico di calci e pugni ci sono centinaia e centinaia e centinaia di palestre, ma dal punto di vista della coltivazione personale, quindi sull'autodisciplina, sulla concentrazione, sulla capacità di gestire corpo e mente e spirito in un certo modo, non sono poi così tante le discipline che possono farlo, mantenendo anche l'aspetto del combattimento attivo. Il primo tra tutti è il fatto che è un sistema e non uno stile, quindi non appartiene solo a uno stile marziale, così come viene solitamente detto, magari imitativo, quindi che imita un certo tipo di movimenti o un altro, o ha delle limitazioni per esempio per quanto riguarda l'utilizzo delle mani piuttosto che le gambe o la testa o qualsiasi altra parte del corpo. Quindi la prima cosa che c'era da capire è che questo sistema è basato su un principio generale che è quello di cielo, terra, uomo. Un'altra cosa molto importante è la tripartizione tra tempo, spazio e energia, che sono il principio cardine grazie al quale facciamo tutti i nostri movimenti e sul quale costruiamo tutte le nostre forme, tecniche e tutta la gestione del corpo in linea generale. Ma questo ovviamente lo vedremo video dopo video, abbiamo già pubblicato altre cose, li vedrai consigliate qui dal canale, davvero molto 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 interessanti. Questa tripartizione del sistema, quindi del principio spazio, tempo e energia, lo rendono sicuramente un sistema di combattimento molto completo e un sistema soprattutto di coltivazione personale.